Alla mezzia terme restano i commissari. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto la sospensiva richiesta dal Ministero dell'Interno verso la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva invece accolto il ricorso contro lo scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzata del Comune Lamettino che era stato presentato dall'ex sindaco Paolo Mascaro. Nei giorni scorsi lo stesso Consiglio di Stato aveva accolto la sospensiva senza sentire le parti. Decisione confermata poi a conclusione dell'udienza collegiale in cui sono stati sentiti i legali del Viminale e quelli dell'ex sindaco Mascaro. Si infrangono quindi le speranze dell'ex primo cittadino di tornare a guidare l'ente. Mascaro ha quindi affidato a Facebook tutta la sua amarezza. Non saranno ingiusti provvedimenti giudiziari a fermare il mio amore per la mezzia ed il mio desiderio di cambiare un sistema intrappolato da logiche perverse. Continuerò a combattere, aggiunge Mascaro, per far trionfare la giustizia. Continuerò a combattere per difendere un territorio massacrato dall'ignavi e dalla codardia. Continuerò comunque a credere nella giustizia ed a credere nella possibilità di trasformare un sistema ingiusto che calpesta democrazia e diritti. Oggi più che mai tutti dobbiamo difendere la mezzia. Viva la mezzia, viva la democrazia. I commissari, il cui incarico era da poco stato prorogato di altri sei mesi, resteranno quindi in carica fino a novembre 2019, quando si dovrebbe, salvo ulteriori sviluppi, tornare alle urne.